Buongiorno amici ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu dedicata alle notizie bellunesi oggi è martedì 2 marzo vi guido io Luigi Guglielmi nello sfoglio delle edizioni bellunesi dei giornali allora purtroppo cominciamo subito con la pagina 11 del gazzettino di belluno leggendo l'articolo di lauredana marsiglia che si riferisce alla disgrazia venuta nei giorni scorsi di cui poi si è saputo ieri sera muore sullo spitz vedana dopo un volo di 40 metri quando perdiamo un giovane bellunese insomma il cuore si stringe perché pensiamo alla disgrazia in sé pensiamo ai familiari agli amici alle persone che gli sono vicine insomma quanti sentono ora la sua mancanza sono state ore di concitazione perché non è stato facile trovare il corpo di questo escursionista che probabilmente già sabato è deceduto tiziano soppelsa si chiama 27 anni si chiamava purtroppo era uscito sabato mattina per un'escursione il decesso forse già la sera stessa stiamo leggendo ripeto dal gazzettino di belluno pagina 11 sarebbe scivolato dal sentiero via normale precipitando lungo un impervio canalone praticamente non stava facendo nient'altro che percorrere la strada normale il sentiero normale che si snoda sullo spitz vedana che è una zona piuttosto impervia un po da esperti insomma ma non stiamo parlando delle stiamo parlando di escursioni insomma escursioni che richiedono un certo impegno certo bisogna ricordare che le nostre montagne anche la nostra mezza montagna della nella provincia di belluno la fascia delle pre alpi presenta delle insidie importanti perché è facile trovare comunque il piano molto scosceso dove se scivoli puoi finire male insomma è quello che è successo a questo povero ragazzo la ricerca di tiziano soppelsa dice l'articolo 27 anni di sedico si è conclusa ieri con il ritrovamento del corpo ormai privo di vita sullo spitz vedana in comune di sospirolo gli inquirenti vediamo vi mostro anche meglio il testo che vi sto leggendo gli inquirenti parlano di una caduta accidentale dal sentiero denominato via normale non è che sia denominato via normale si tratta della via normale via normali sono il sentiero normale di accesso la morte è sopraggiunta per il grave politrauma nato ad agordo ma originario di cenzenighe i soppelsa sappiamo sono di lassù paese del padre donato morto quando lui era ancora piccolo da molti anni risiedeva in via passione di sedico al civico 14 abitava con la madre manuela informata ieri nel tardo pomeriggio del tragico epilogo dopo giorni di speranza di poterlo ritrovare ancora in vita era uscito di casa nella tarda mattinata di sabato partendo a bordo della sua vettura in altre occasioni sempre legate alla montagna le escursioni in montagna tiziano sarebbe rimasto fuori anche la notte circostanza che inizialmente aveva fatto sperare per il meglio e ritardare anche le ricerche sapendo appunto delle sue abitudini d'altra parte non ci dobbiamo stupire di questo la montagna in provincia di belluno ha una storia di frequentazioni lunghe perché a volte i giri come si può dire l'esplorazione richiedono anche tempi lunghi quindi insomma se il ragazzo era abituato anche a star fuori la notte è chiaro che se sarà pensato da una decisione presa sul momento di non tornare a casa rispetto ai propri piani insomma ecco quindi all'inizio non c'è stato un allarme così pressante come poi invece è accaduto allora continuiamo a leggere l'articolo di laurea d'ana marsiglia l'allarme infatti è partito solo ieri mattina domenica mattina e la prefettura ha subito avviato la procedura per la lunedì mattina scusate e la prefettura ha subito avviato la procedura per la ricerca di persone scomparse si sono subito immobilitati i carabinieri forestali i vigili del fuoco il soccorso alpino intervenuto con l'ausilio dell'elicottero il primo indizio fondamentale è stato il ritrovamento dell'auto da parte dei carabinieri forestali parcheggiata a ponte miss difficile da qui in poi capire quale direzione avesse preso sono stati quindi verificati i link di montagna visitati di recente sul suo computer il soccorso alpino ha appreso che su due siti si era informato a proposito dell'anello dello spiz di vedana e da qui insomma sono partite le ipotesi su dove potesse trovarsi questo ragazzo poiché dal luogo del parcheggio si avrebbe anche potuto dirigere a casera nusieda sopra il lago del miss è stato deciso di verificare entrambe le mete l'elicottero delle sue medie di cadore ha quindi marcato tre tecnici del soccorso alpino di belluno e ha sorvolato il percorso di accesso e i sottostanti canaloni fino a casera nusieda dove i soccorritori hanno visionato il libro c'è nei rifugi nei bivacchi nelle casere spesso c'è un libretto dove una persona trova lì la penna ci scrive un pensiero a volte mette solo la data e la firma per dire sono passato di qui ecco poiché non c'era stato alcun riscontro sul libretto non c'era la firma l'eliambulanza ha effettuato la perlustrazione sull'altra via segnalata di salita allo spiz vedana e durante il passaggio sopra i canali cosa vuol dire sopra queste cose che vi dicevo cioè questi pendisco scesi è stato visto il corpo senza vita dell'escursionista 40 metri circa sotto il sentiero è scivolato scivolato giù dal sentiero da dove è scivolato probabilmente già sabato ormai quasi prossima la scadenza delle efemeridi cioè questo ieri sera quando ormai manca mezz'ora al buio totale e l'elicottero non è autorizzato a operare stava per arrivare questa scadenza delle efemeridi con un verricello di 30 metri sono stati sbarcati tecnico di risoccorso e i tre soccorritori a circa 850 metri di altitudine la salma è stata quindi imbarellata recuperata per essere trasportata valle affidata al carro funebre le indagini del caso sono in mano ai carabinieri per cercare di fare completa chiarezza sul caso e stabilire che si sia effettivamente trattato di una caduta accidentale escludendo quindi eventuali presenze di altre persone e conseguenti responsabilità di terzi questo è un fatto dovuto perché dobbiamo sempre chiederci se quella che è apparentemente una caduta non sia stato qualcos'altro insomma una prassi inevitabile dice laureana marsiglia in circostanze simili circostanze che ovviamente saranno valutate dalla magistratura chiamata a decidere se eseguire eventuali accertamenti medico legali di approfondimento l'ex sindaco sergio de chan oggi impegnato nel sedico san giorgio ricorda che molti anni fa il ragazzo aveva fatto parte della squadra ma solo per poco tempo tiziano era stato anche all'estero assieme al fratello fabrizio che oggi uno dei luminari di informatica che oggi lavora in california tiziano lavorava invece come operaio anche se ultimamente con occupazioni saltuarie viene ricordato da tutti come una persona molto solitaria ecco questo insomma la notizia brutta con cui apriamo oggi ieri sere l'avevamo già data sul sito dell'amico del popolo www amicodelpopolo.it che vi invito sempre a guardare moltissimi di voi l'avete vista lì abbiamo visto le condivisioni i vostri commenti le condoglianze che avete espresso attraverso il nostro sito alla famiglia i familiari di questo povero ragazzo ieri un'altra notizia che avevamo già dato ieri in diretta grazie alle informazioni che ci arrivavano soprattutto dall'assessore regionale bottacina è stata la notizia relativa all'incendio sopra mezzo canale parliamo di valdizoldo che la notizia che occupa l'altra metà pagina di oggi del gazzettino valdizoldo il titolo è questo infiamma il bosco sopra mezzo canale le case sono salve ma il fronte è vasto e qui firma alessia trentin un incendio ha devastato i boschi di mezzo canale scoppiato alle 13 di ieri da quel momento elicotteri e squadre a terra hanno lavorato senza sosta per donare le fiamme per domare le fiamme alle 19 di ieri il fuoco non era ancora stato spento quindi in serata i mezzi sono rimasti sul posto riprenderanno le operazioni questa mattina è un fronte di incendio molto esteso spiegava ieri il sindaco di valdizoldo camillo de pellegrin che ha seguito in diretta l'emergenza al lavoro c'erano quattro squadre di pompieri oltre ai nostri volontari e ai vigili del fuoco arrivati da belluna arriverà anche terna per decidere dove disattivare le linee poi si potrà intervenire anche dall'alto con gli elicotteri sperando che la situazione rientri velocemente il punto in cui è partito il fuoco è in coincidenza del ristorante ninetta ma siamo abbastanza lontani sia dal ristorante che dalle abilitazioni il fumo invece arriva fino in centro a forno di valdizoldo non si conoscono con certezza al momento le cause ma sembra che l'innesco sia stato del tutto accidentale due gli elicotteri intervenuti dice sempre il gazzettino oltre a squadre del personale della regione veneto che ha competenza sugli incendi boschivi in un primo momento era stato attivato un solo mezzo ma nel corso della giornata il particolare incendio in cui insita l'area di fuoco e le conseguenti difficoltà dello spegnimento hanno indotto la regione del veneto a far intervenire anche il secondo elicottero tramite il nostro funzionario regionale con compiti di dos cioè direttore operativo di spegnimento spiegava ieri l'assessore della protezione civile giampaolo bottacin stiamo coordinando le operazioni che coinvolgono oltre al personale regionale aib a terra e gli elicotteri anche i gruppi di volontari della protezione civile capite bene che in questi casi non può che esserci una vasta mobilitazione e si ritrova ogni volta in queste situazioni si riscopre ogni volta in queste situazioni l'importanza fondamentale dell'organizzazione del nostro volontariato provinciale il vasto volontariato provinciale bellunese che proprio perché organizzato riesce ad essere mobilitato nel modo più efficace in caso di necessità come è accaduto appunto ieri troveremo questa questa notizia anche altrove sui giornali e anche sulle prime pagine ma ormai che stiamo sfogliando il gazzettino nelle pagine avanti diciamo ve la do da qui evasione fiscale le fiamme gialle mettono i sigilli ad un immobile sequestro preventivo di beni per 4 milioni a due imprenditori della obeg un marchio che in questi anni ha avuto molto successo piacciono molto queste borse di plastica dalle linee assolutamente semplici però colorate però ricomponibili sono è stata una trovata di successo di imprenditori veneti c'è anche una seconda casa a rocca pietro e tra i beni sequestrati nell'ambito di un'indagine della finanza su un giro di evasione fischiale se il veleziano michele zanella e il padovano simone della libera soci fondatori del marchio obeg non si fossero divisi tra virgolette in maniera decisamente poco amichevole forse le fiamme gialle non avrebbero mai scoperto il complesso meccanismo che i due assieme ad altri tre complici avrebbero messo in piedi pur di pagare meno tasse in italia l'articolo è da fuori a firma di marie marina lucchina arriva qui a spiegare appunto quali sono state le conseguenze dell'inchiesta portata avanti dal nucleo di polizia economico finanziaria di padova che ha portato anche appunto a un sequestro come dicevamo gli approfondimenti svolti dai finanzieri hanno consentito di stabilire che il marchio obeg era stato concepito e valorizzato fin dall'origine dall'impresa di campo d'arsego e non dall'azienda inglese a cui la società padovana pagava le royalties il sequestro seguito anche nella forma per equivalente nei confronti degli indagati ha riguardato l'impon disponibilità liquide per 300 mila euro 12 unità immobiliari oltre che rocca pietole anche tra padova e dolo nel veneziano nonché titoli azionari per 2,5 milioni di euro e nel sui giornali troviamo la fotografia della frazione di saviner che è stata appunto dove appunto c'era questa dove c'è questa casa riferita alla proprietà Don De Gasperi diamo quella che è una buona notizia vista la grande attesa che sul nostro territorio c'è per la copertura insomma delle parrocchie dei parroci nelle nostre diverse comunità Don De Gasperi nuovo diacono caviola in festa lo saluto anche da qui mi è capitato di intervistarlo per i giorni di comunità e dello spirito e allora gli facciamo i complimenti un grande augurio insomma perché possa proseguire nella sua strada ciao Don Sandro adesso sei Don Sandro allora caviola in festa cerimonia per il futuro sacerdote Sandro a Feltre l'ordinazione a diacono di Don Sandro De Gasperi originario di caviola in comune di Falcade avvenuta nel pomeriggio di domenica nella cattedrale di Feltre è stata la prima dopo che i seminaristi di Belluno hanno iniziato a seguire i corsi nel seminario di Trento che è una novità di pochi anni fa quella di domenica è stata una cerimonia commovente Don Sandro De Gasperi ha detto sì al servizio della chiesa accompagnato da tantissime persone preti e diaconi arrivati un po' da tutte le parti del bellunese tra questi era presente anche Don Bruno De Lazzer salutiamo anche Don Bruno che quando era parroco di caviola ha scoperto e agevolato la vocazione del giovane Sandro avviandolo sulla strada sacerdotale questo uso di questo termine della strada penso che sia particolarmente importante e interessante perché Don Bruno è una persona originaria di Ronc, di Last, di Rocca Pietro è una persona appassionatissima del camminare, della nostra montagna e si porta alle sue comunità anche a scoprire le nostre vallate e diventa un'occasione come spesso abbiamo visto anche per aprirsi, per aprire il cuore per parlare insomma e chissà se anche in questo caso non sia valso insomma come l'occasione ecco per conoscere meglio Don Sandro e per lui per conoscersi meglio per capire qual era la sua strada una grande emozione e un avvenimento per i fedeli di caviola di tutta la valle del Biois che ormai da tempo non aveva più un proprio giovane che seguisse la vocazione ecclesiastica ma è stata anche una grande emozione per le tante persone che hanno seguito l'evento online contenta la mamma Tatiana Fontanive siamo grati a Don Andrea Piccolin che ha seguito ultimamente Sandro in questo lungo percorso al Feltrino che l'ho accolto nel suo primo servizio pastorale prima nella parrocchia di Limana e ora nelle varie parrocchie appunto del centro di Feltre ma anche ai formatori di Trento, ai compagni di seminario nonché ai tanti preti che lo hanno seguito siamo stati anche sorpresi di sapere che era presente alla cerimonia anche qualche prete della diocesi di Venezia e Treviso oggi Sandro è cittadino del mondo accompagnato da tanta gente che gli vuole bene e di questo siamo molto orgogliosi in famiglia poi l'articolo continua se volete saperne di più siamo a pagina 12 del Gazzettino nell'edizione locale di Belluno altri titoli sicurezza idraulica lungo il Maè via ai lavori il parroco riscalda la struttura medica gonfiabile accade a Cortina d'Ampezzo Don Brambilla dona l'impianto termico alla Croce Bianca questi sono i gesti di solidarietà che scattano da tutte le parti nella nostra provincia è veramente bello e importante vedere questo giro d'Italia a cavallo sognando l'ippoterapia avvodo di Cadore giovane coppia percorrerà tutta la penisola aprendo una via che colleghi tutte le regioni addio a due grandi della cultura parliamo di Auronzo di Cadore e l'articolo si riferisce a Ireno Manoli e a Luigi in Abortolatto dunque lo sport con lo zoom su sulla famiglia di Pietro Piller Kotler di padre in figlio super Piller Kotler Fabio figlio dell'olimpionico del fondo Pietro conquista la medaglia d'argento ai mondiali giovani ma nel biathlon non mi aspettavo un risultato così e noi siamo contenti che le tradizioni della nostra montagna bellunese o Sappadina insomma che è ex bellunese continuino insomma a sfornare a portare a casa successi non vi ho fatto vedere la prima del gazzettino ci torniamo adesso per vedere con cosa apre questo giornale vedrete che c'è in alto la notizia appunto purtroppo della morte di quel ragazzo di cui dicevamo prima giù nel burrone per 40 metri muore un 27enne il titolone è questo però impianti chiusi persi 400 milioni conti in rosso per tutto ciò che gravita attorno attorno allo sci dalle forniture alimentari alla vendita di attrezzature invernali la foto appunto della dinastia Pietro Piller Kotler è la foto centrale della pagina con Fabio figlio di Pietro argento mondiale giovanile al centro dei sorrisi diciamo così Quero Vass rubò occhiali ora patteggia un anno e due mesi altri titoli da questa prima pagina Val di Zoldo a fuoco i boschi sopra mezzo canale abbiamo detto questo riquadro sul covid dobbiamo dire come va l'emergenza covid contagi in salita la preoccupazione dei sindaci contagi in aumento ma a ritmo per ora accettabile è ciò che emerge dal report settimanale dell'Ursuno Dolomiti siamo all'alba di una terza ondata difficile dirlo l'andamento dei nuovi contagi è in leggera crescita pur con evidenti oscillazioni giornaliere fa sapere l'azienda sanitaria ma c'è un dato che fila dritto verso numeri sempre più alti da quello che riguarda gli attualmente positivi salgono alla quota 670 di ieri come sapete noi dell'amico del popolo produciamo ogni settimana i nostri calcoli sull'andamento dell'incidenza e l'incidenza dice giusto il gazzettino registra un nuovo aumento sulla settimana che si è appena conclusa c'è un aumento non troppo rilevante non così come rilevante come nel Veneto dove invece è stato da una settimana all'altra di più 29% quindi veramente significativo latitante da Belluno in manette per omicidio in Brasile una vicenda così Roccapietro e Obeg soci nei guai per evasione fiscale sigilli della finanza alla casa in montagna e vi dicevo che la foto di Saviner di Roccapietro sfogliando veloci l'indotto sci in ginocchio danni per 400 milioni vi ho già detto era nel titolo in prima le vendite sono crollate a zero la situazione è morta e si parla di riferimento ai rivenditori di attrezzature da sci da sport la rabbia dei maestri per noi neanche un'ora di lavoro siamo mille questo è un problema veramente importante per queste persone che non lavorano da un anno un inverno con precipitazioni nevose quasi da record e questo è il paradosso insomma in un inverno bello così si ritrova con una situazione così la curva dei contagi torna a salire in crescita i ricoveri e c'è la mappa del contagio c'è la mappa riferita alla provincia di Belluno dove in scuro sono i comuni dove la percentuale di nuovi di nuovi dati è in aumento ora trovare scritto nella cartina incidenza negli ultimi sette anni è chiaro che fa pensare a un errore ecco succede così le sviste per noi giornalisti che dobbiamo chiudere veloci sono sempre in agguato per il momento l'unica soluzione è chiudere tutto rischiamo grosso l'intervista è a Gianluigi della Giacoma segretario CGLFP funzione pubblica diciamo che su queste posizioni si sta attestando anche il presidente Luca Zaia che ha chiesto uno stop alle contrapposizioni ideologiche in cerca invece di come si dice della soluzione che scientificamente appaia la migliore allora in fuga dopo l'omicidio vi dicevo prima uccide ancora Gallardo Consalves latitante dopo la morte di Barbara Durastante ricordate l'incidente è stato arrestato in Brasile per l'omicidio di un ottantenne in una rapina nel dicembre 2017 si schiantò ubriaco in via Vittorio Veneto e la passeggera morì non finì in manette come prevede la legge ricordarete lo schianto ci sono spesso i fiori sul luogo dell'incidente in via Vittorio Veneto poco dopo la rotonda i due avevano un tasso alcolico molto elevato lui in particolare mountain bike su il Nevegall arrivano i sentieri attrezzati legalità nelle imprese firmato il patto feltre aria inquinata adesso si spera nel meteo con il vento dovrebbe andar via l'inquinamento ne parlava ieri l'Arpav addio ad Angelo Todoerto Santa Giustina il prefetto incontra la giunta se rende il grappa prende il tornante troppo largo e c'entra un camion ieri una donna è finita in ospedale botte la moglie marito violento finisce in galera Querovas corriere ladro di occhiali patteggia 14 mesi di carcere buco in via Balin la Mon il comune aveva già previsto di eliminarle e poi la notizia della morte del ragazzo e abbiamo già visto queste pagine vi mostro la prima nazionale del gazzettino no global veneti pagati per salvare i migranti i titoloni la truffa dei vaccini ai parenti padova scoperte decine di false prenotazioni del personale scolastico per far immunizzare familiari e amici c'è un'intervistona a Benetton cosa ci ha insegnato Cortina 2021 e la foto centrale è dedicata a Arcuri lotta al covid Draghi licenzia Arcuri al suo posto come commissario generale figliuolo Zaia contagi ai livelli di ottobre le scuole sono a rischio sono parole di Luca Zaia che vede una correlazione troppo importante tra l'apertura la riapertura delle scuole e l'andamento dei contagi tanto da chiedere uno stop contagi la curva risale più veloce del previsto spaccatura sulle scuole secondo appunto quello che si legge per quello che riguarda le cronache nazionali scuola e assembramenti verso un picco di contagi i dati come a ottobre Zaia chiede al governo di uniformare e rivedere i parametri virgolette senza ideologie Fedriga in Friuli Venezia Giulia la situazione è estremamente allarmante questa è la situazione purtroppo relativa al coronavirus che non ci lascia stare ci preoccupa anzi ancora di più vista la presenza delle varianti che sappiamo essere sicuramente più contagiose ma forse anche più pericolose allora il titolone di apertura del Corriere delle Alpi in prima pagina cari amici della radio vi descrivo escursionista di 27 anni muore in un canalone questo è il titolone la foto grande invece ritrae una classe di scuola e il titolo è questo Zaia sulle scuole intervenga il CTS chiudere prima che sia troppo tardi allora capite bene che Zaia sta chiedendo che la decisione sta chiedendo di non dover essere lui a prendere la decisione vuole che la decisione venga presa a livello centrale ma ha già indicato quale deve essere la decisione secondo Zaia bisogna pensare ad una chiusura subito per evitare di perdere tutto di trovarsi in problemi eccessivi dopo c'è la notizia sul latitante in fuga da Belluno e sulle sue vicende Querovas muore anziano pestato in casa giovane risca l'accusa di omicidio feltre addio a pioggia commercialista benefattore per la sanità altri titoli in questa prima del Corriere Arcuri sostituito abbiamo detto Draghi la nuova linea smantella il metodo Conte sul piano vaccini regia a due teste è giusto è ovvio è giusto che ci siano delle novità col cambio del governo lotta al covid Draghi Vicenzi Arcuri al suo posto il generale degli alpini quindi insomma un personaggio vicino alle nostre montagne velocemente ma proprio velocemente sto scorrendo per chi ci segue sui nostri social Facebook Youtube le pagine del Corriere nel sfoglio nazionale scontro nel governo sulle scuole chiuse nelle zone arancioni così il decreto slitta perché si sta discutendo se chiudere che cosa chiudere nelle zone arancioni ricordiamoci che Belluno il Veneto l'abbiamo già scritto sull'amico del popolo ha nella settimana che si è chiusa numeri probabilmente già da zona arancione solo che saranno ufficializzati venerdì prossimo e quindi aspetteremo venerdì per capire se la settimana prossima sarà in arancione ma è molto probabile che lo sia Zaia il CTS fissi un parametro oggettivo per decidere la chiusura delle scuole il Veneto giallo evita la stretta ma il Presidente vuole un giro di vita nei prossimi giorni per evitare la diffusione dei contagi perché Zaia ha in mano i numeri che abbiamo calcolato anche noi dell'amico del popolo se riusciamo a calcolarli noi figurarsi se non ne è anche lui i numeri ci dicono che già questa settimana che stiamo vivendo adesso ha contagi una situazione che meriterebbe l'arancio quindi insomma capite che siamo a rischio bisogna che stiamo molto attenti con le misure di precauzione su cui sappiamo di poter contare le mascherine il distanziamento il lavaggio delle mani ecco queste sono cose che dobbiamo attuare con estrema attenzione e rigore crescono i focolai di covid tra il cadore e il comelico il cadore e il comelico purtroppo già dall'estate scorse si sono mostrate una zona molto vulnerabile l'altra volta l'ondata che aveva portato Belluno ricordate a livelli peggiori di Italia di tutta Italia è durata settimane questa situazione era partita proprio da lì proprio dal comelico crescono i focolari di covid tra il cadore e il comelico a San Nicolò chiusi l'asilo e tre classi delle elementari il sindaco è preoccupato l'Ulsa accelera le vaccinazioni tra gli anziani e il personale dei servizi essenziali questa è la situazione noi dobbiamo prendercene carico tutti cercando di comportarci contrastando con i nostri comportamenti più che si può l'avanzamento dell'epidemia l'Ulsa aumenta i compensi per attirare gli specialisti nell'unità di ginecologia chiude poi questa pagina relativa alla salute questa pagina 8 relativa alla salute io mi fermo qui perché ormai siamo a quasi mezz'ora di rassegna stampa crediamo che possa bastare se ci avete seguito fin qui magari metteteci un like metteteci un commento ci piacciono i vostri commenti magari anche solo un saluto e noi vi rispondiamo e poi condividete se ritenete questa rassegna un servizio utile che vi offriamo ecco io poi vi raccomando sempre i giornali non ascoltateli qui da noi soltanto comprateli i giornali compriamoli perché Giazzettino Corriere delle Alpi L'Amico del Popolo perché solo se ci sostenete così comprandoci ogni tanto ci aiutate a portare avanti il nostro lavoro e a fare anche questo servizio che vorrebbe cercare di essere per la vostra e la nostra utilità ciao a tutti buona giornata state bene mi raccomando state bene grazie a tutti grazie a tutti